Bene gente, questo avrebbe dovuto essere un vlog, ma come sempre mi incasino quando c'è da fare dei video e non ho fatto nessuna introduzione, non ho parlato sul set, quindi semplicemente un video di backstage backstage di un set realizzato insieme alla modella influencer e rappresentatrice tv Chiara Stile sul set insieme a noi c'era Elisa Guidotti come Makeup Artist, è stata una giornata molto divertente e niente, volevo lasciare a voi il racconto di questa giornata. Se il video, ve lo dico prima, se il video vi è piaciuto mettete un like, se avete qualcosa da farci sapere scrivetelo nei commenti. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!